Inter Juventus ci siamo Matteo sei già in clima tu intanto beh sì da un po' da un po' ben prima di questa settimana ben prima di questa settimana sì sì ci siamo entrati progressivamente ma ci siamo dai ci stiamo avvicinando do il benvenuto qui su Passione Inter allora oggi per questo episodio speciale Matteo Davom 23 come lo conoscete su YouTube host di tutti in the box è giusto dire così Matteo? Sì assolutamente sì assolutamente sì grazie mille grazie per l'invito insomma spero che la vostra community sia come dire educata nell'accogliermi nonostante nonostante la bandiera di colori diversi a distanza di così pochi giorni dal dal big batch comunque a parte gli scherzi grazie mille per l'invito è un grandissimo piacere poter essere qua e insomma presentare anche un po' prepararci insieme alla partita con con tutti i vostri seguaci con tutta la vostra community sì 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 no abbiamo una gran bella community che sicuramente ti saprà raccogliere Matteo ma sono ore molto calde diciamo l'idea era quella di presentare questa partita di farlo chiaramente noi nelle prossime ore porteremo le nostre preview volevamo però ascoltare anche un po' il punto di vista juventino vogliamo sentire un po' il polso del mondo bianconero su questa partita la prima cosa che mi viene da chiederti subito è lato Juve o almeno secondo te arriva troppo presto questa partita è già decisiva a questo punto oppure oppure ancora no c'è ancora tanta strada forse arriva un po' presto sì 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 forse arriva un po' presto però mi viene anche forse a dire che sia se penso da un punto di vista della Juve forse potrebbe essere meglio il fatto di togliersene anche anche psicologicamente in modo tale che poi dopo la corsa sarà proprio un testa a testa a distanza no cioè quindi scontro diretto messo da parte diventerà un testa a testa da una giornata all'altra però sicuramente arriva arriva un po' presto tu pensa allora se tu mi chiedi se è decisiva è chiaro che finché la matematica questa è la classica risposta proprio preconfezionata no cioè finché la matematica non condanna anche da tifoso è bello è bello crederci fino fino alla fine però tu pensa che per me è stata mezza decisiva mezzo decisivo il weekend scorso quindi pensa io come 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 arrivo a questo a questo weekend a questo weekend qua cioè per me il passo falso non è stata una sconfitta ma per me è un passo falso della della Juve contro l'Empoli e la vittoria dell'Inter è arrivata anche in quel modo lì cioè con il rigore contro parato vinto per 1 a 0 con tanti titolari assenti cioè in un weekend perfetto in cui tu in teoria ti eri immaginato addirittura magari di allungare ovviamente sempre con l'asterisco ma di allungare in vista dello sconto diretto così da poterti magari anche un po' gestire fare qualche calcolo in più tu addirittura hai perso dei punti addirittura hai perso il primato in classifica addirittura con l'asterisco per cui per me è stato psicologicamente anche da tifoso non dico un colpo di grazia ma sicuramente una bella bastonata la giornata scorsa per cui questo questo sconto diretto qua è secondo me molto più decisivo per l'Inter che per la Juve cioè mi spiego per l'Inter può essere un match è un match point per la Juve no assolutamente. Quindi mi hai dato vari spunti però prima di approfondire questo faccio un passo indietro io da esterno ho avvertito un po' di nervosismo te la metto così dopo il pareggio con con l'Empoli nel senso che si è molto parlato del botte risposta mediatico di di quello che è stato il duello dialettico eh da esterno guardando il mondo inter ho visto l'Inter comunque non rispondere a parte a Cerbi che poi avevamo sottolineato anche da te a tutti in the box che io non avevo condiviso quell'uscita eh lato inter non hanno risposto sono stati concentrati sul campo dopo l'Empoli io ci ho visto qualcosa di qualche segnale che da interista sulla mia inter avrà interpretato come segnale di nervosismo. Ti chiedo se sei d'accordo e quindi che momento è questo per la Juventus per per affrontare l'Inter? D'accordo al cento per cento e talmente d'accordo che ti corrego anche nel dire che non è stato dopo Empoli ma io l'ho avvertito pre Empoli proprio nella conferenza stampa di di pre partite perché tu hai parlato di un botte risposta dove secondo me in tutto questo Allegri era stato abbastanza anche impeccabile se vogliamo un po' nello sfottò sportivo anche con quella con quella battuta di Guardi e Ladri che guarda che mi lo dico non da tifoso da esterno secondo me era stata veramente cioè non c'era malizia eh gli è uscita così e poi dopo dentro c'era come dire il termine Ladri a distanza di una settimana dopo il contatto bastoni d'uda per cui si è scatenato tutto il putiferio ma io onestamente non ci ho visto non ci ho visto malizia e diciamo programmazione fino a quel momento lì con anche la battuta sull'ippica sul paraocchi a me Allegri era piaciuto molto perché aveva stemperato anche con la sua divurnesità come la chiama lui eh un po' questo questa tensione eh di questo scontro a distanza ed è stato un botte risposta che prima dell'Empoli è diventato invece solo botta e non più risposta e secondo me lì Allegri è andato oltre lì Allegri è andato oltre cioè quando gli hanno fatto la domanda su Sinner Giocovici dove lui ha dato anche una risposta se vogliamo logica no perché ha detto se guardiamo la media età eventualmente ci potete considerare Sinner mentre l'Inter la potete considerare Giocovici un altro giornalista era già partito con la domanda successiva lui l'ha interrotto dicendo però non lo so eh perché di là sono permalosi non so come la prendano e lì io da tifoso ascoltando ho detto questa mi ha stonato secondo me qua Allegri Allegri ha parlato troppo io ne parlavo anche qua a tavolo di tutti in the box con con i ragazzi lunedì ehm e gli dicevo lui in primis tante volte ribadisce che soprattutto quando sei la Juventus bisogna stare zitti con il profilo basso parlare sul campo con il lavoro con le prestazioni e lui secondo me è stato il primo che è caduto un po' nella sua stessa trappola e che alla fine ha parlato troppo ha parlato troppo e e questo in un certo modo gli è tornato indietro il giorno dopo nella sfida nella sfida con l'Empoli che è stata a mio avviso una partita sottovalutata e quindi giustamente non l'hai vinta perché soprattutto questo Juve qua 23-24 è una Juve che secondo me non può far calcoli. Per sottovalutata tu dici anche nella scelta di ho sentito parlare molto di Danilo, Alessandro in campo a livello proprio anche di uomini scelti per la partita. Sì perché che cosa ti dice il tifoso che tra virgolette difende Allegri diciamo nella scelta di fare giocare Milik piuttosto che Ildice ti dice che anche con Milik dovresti vincere agevolmente contro l'Empoli. Io la metto infatti su un altro piano che per me non è un piano tecnico cioè per me con Milik Vlaovic puoi benissimo affrontare la partita con l'Empoli in casa. Io la metto su un piano di comunicazione, di messaggio che tu stai dando alla squadra perché se tu mi tieni giù innanzitutto il giocatore che ti sta facendo in questo momento la differenza soprattutto in assenza di Chiesa che appunto Kena Nildiz. Da quando c'è lui avevi fatto cinque vittorie di fila che comunque fare un friotto di cinque vittorie in Serie A non è non è mai semplice comunque ti ha permesso seppur con una partita in più di arrivare prima in classifica. Comunque stava funzionando bene stava funzionando bene anche in coppia con Vlaovic ma soprattutto si è parlato troppo poco della scelta di Danilo anche. perché in questa stagione era già successo che un nostro giocatore cioè Federico Gatti fosse diffidato prima di un big match. Credo Monza-Napoli fosse la coperta di partita. Adesso non vuoi dire una cavolata ma c'era stata una partita in cui Gatti era diffidato e la settimana dopo ci aspettava un big match. In conferenza gli hanno chiesto domani risparmierai Gatti visto che la prossima settimana. Ho detto no perché la partita è più importante oggi. Poi contro quella squadra ci andremo a giocare con gli effettivi e con chi ci sarà perché non bisogna fare calcoli. Il fatto che lui anche già prima della conferenza avesse preannunciato che Danilo l'avrebbe risparmiato è secondo me il messaggio sbagliato che tu stai dando alla squadra di una partita che sarà semplice, che sarà facile, che sarà quasi una sorta di come fosse una passeggiata di salute. E questo messaggio qua innanzitutto si è visto in un approccio alla partita sbagliato. Una cosa che la Juventus quest'anno possiamo dire non è praticamente mai successo perché ha sempre avuto degli approcci alla partita da un punto di vista mentale di concentrazione pressoché impeccabili. Invece contro l'Empoli forse davvero per la prima volta, primi dieci minuti, squadra disordinata, il Napoli che scendeva agevolmente, hai sbagliato tanto tecnicamente e il tutto è sfociato in un gesto ingenuo ma comunque sintomo anche di poca concentrazione e forse già un pelo di nervosismo che è ovviamente il fallo di Ludic. Quindi lo intendo proprio da questo punto di vista qua. Alla fine poi si è visto in campo quello che gli errori che tu hai fatto anche da un punto di vista di comunicazione sia verso l'esterno e sia verso l'interno, cioè verso il tuo spogliatore lasciato a squadra. Questo lato inter io ci vedo invece forse un po' di maturità in più nel gruppo inter nel momento in cui anche Inzaghi secondo me ha fatto alcune scelte comunque tenendo conto della Juventus. Detto che comunque Di Marco non gioca perché era stato spremuto in Supercoppa italiana, comunque c'erano due assenze come c'era Noglo e Barella per squalifica quindi ci sono state scelte anche abbastanza obbligate. Però la risposta anche di chi è stato messo in campo in questo momento così è stata una risposta comunque positiva su un campo molto difficile come... Ma guarda allora scusami se mi interrompo. Secondo me l'Inter di oggi se lo può permettere molto di più che la Juventus. Cioè parlo proprio di periodo storico non parlo in generale. Cioè se mi parli della prima Juve di Allegri che andava col pilota automatico ti avrei detto ok serenissimo facciamo pure le rotazioni del caso in vista dell'Inter ma la Juve di oggi che ha maggior ragione è una squadra che gioca una partita settimana quindi sostanzialmente non ha nemmeno bisogno di rifiatare secondo me è una scelta sbagliata che ha poco senso. L'Inter secondo me se lo può permettere molto di più. Quindi sono d'accordo con te. Allora in questo senso allora Matteo ne stavamo discutendo nell'ultima diretta molti tifosi e tifosi interiste ci dicevano forse per quello che sarà anche il resto della stagione per quello che sarà poi anche il discorso che l'Inter ha la Champions e lato Inter si considera un vantaggio comunque che la Juventus possa focalizzarsi solo sul campionato. Ci viene da dire da quello che leggevo una vittoria dell'Inter in questa partita avrebbe sì un peso molto importante ma non quanto un'eventuale sconfitta al contrario cioè una sconfitta per l'Inter potrebbe essere forse più pericolosa dannosa di quanto sarebbe invece positiva una vittoria. Questo è un po' un messaggio che ho accolto nell'ultima diretta da parte di molti tifosi. Quindi ti chiedo anche come si traduce questo anche lato Juve magari un pareggio viene interpretato come un possibile buon risultato in questo momento? Allora partendo dal presupposto che un po' per tutti gli appassionati mi auguro che possa essere una partita più bellina e più emozionante di quella dell'andata perché era stata veramente carente di contenuti calcistici no? Quindi innanzitutto auguriamoci che possa essere un Inter Juve un pochino più bello e avvincente. Per quanto riguarda la tua domanda allora nella strategia di Allegri secondo me questo non cambia tanto. Mi sorprende un po' quello che tu mi stai dicendo cioè il fatto che un po' il sentiment magari generale del tifoso Inter, della tifosieria Inter che una sconfitta per la Juve possa essere fatale per il resto del campionato insomma io onestamente la penso al contrario come ti dicevo come ti dicevo prima secondo me la strategia di Allegri non cambia e lui secondo me la imposterà un po' allo stesso modo mi aspetto invece un Inzaghi che proverà a dare il colpo di grazia. Cioè io mi aspetto un Allegri che cercherà da un lato di gestirla come fa tantissime volte anche in tanti scontri diretti perché poi l'andata comunque i primi 45 minuti la Juve ha deciso di aggredire molto la partita tant'è che comunque il gol di Vlaovic nasce da un pallone recuperato nell'ultimo terzo di campo. Invece secondo me a San Siro vedremo una squadra molto più compassata molto più bloccata molto più compatta dietro la linea del pallone. Proverà secondo me a giocarsela anche un po' su episodi sulle palline attive dove la Juve è veramente molto forte e l'Inter invece per quanto sia forte però non è impeccabile credo che sia quinta per i G concessi su su calci piazzati l'Inter e al contrario di là mi aspetto invece un Inzaghi che la preparerà la preparerà sulla zannare la partita e cercare di dare colpo di grazia al campionato. Questo mi aspetto. E allora a livello di atteggiamento, a livello di partite diciamo sarà una partita diversa da quella dell'andata. All'andata c'era proprio la sensazione che nessuno delle due potesse perdere oltre a non voler perdere e forse era ancora una stagione in costruzione. Ora le cose sono cambiate anche lato Juve sono passati diversi periodi secondo me della stagione la Juve si è evoluta. Sì sicuramente sì sicuramente sì però sai quella partita lì era la comfort zone della Juve in cui l'Inter ha deciso di starci per cui secondo me il primo passo deve essere fatto proprio dall'Inter se non vogliamo rivedere quella stessa trama di partita perché credo che la Juve comunque non credo nemmeno non mi aspetto nemmeno te l'ho trovato poco fa che la Juve magari proverà a fare quei primi 20-30 minuti arrembanti per cercare di sbloccare la gara. Cioè mi aspetto una Juve che se la giocherà e cercare di giocarsela un po' sugli episodi quindi dovrà essere più l'Inter eventualmente a dare il segnale di voler vincere questa partita. E chiaramente rispetto a quel momento lì secondo me la Juventus è evoluta in alcuni aspetti anche da un punto di vista di prestazioni e se vogliamo da un punto di vista prettamente estetico qualcosa qualche passo in avanti secondo me secondo me si è visto secondo me l'evoluzione più grande il passo in avanti più grande che ha fatto che ha fatto questa squadra è stata la capacità di leggere le partite che è un must nel nel calcio di Allegri. Quante volte sentiamo Allegri pronunciare queste parole nelle conferenze pre post partita e secondo me la partita con il Sassuolo interna a Torino la partita contro il Lecce dove fino al settantesimo eri 0-0 con una parte tirata dove hai anche rischiato e che però finiscono entrambe con tre reti di scarto a tuo favore sono sintomo di una squadra che il momento della partita ha imparato a leggerlo secondo me e se c'è da difendere fare quel passo indietro in più lo si fa senza frenesia senza fretta senza vergogna e senza paura nel momento in cui invece bisogna zannare ecco che viene fuori anche quel cinismo e quella maturità di dire ok adesso andiamo a far gol e poi c'è anche la maturità magari di dire andiamo anche a chiuderla quindi non portiamo avanti fino all'1-0 ma cerchiamo magari di di andare anche sul 2-0 o addirittura sul 3-0 quindi questo secondo me è il passo in avanti più più grande che ha fatto fatto la Juve da quelle da quelle Juve inter di qualche settimana fa. E allora andando in chiusura Matteo ti chiedo c'è già una bozza di formazione un'idea quali sono magari i dubbi principali e le certezze. Allora guarda io mi auguro da tifoso che che Rabiot stia bene perché già il nostro centrocampo è carente e scarno senza Rabiot si perde veramente in termini di peso e di presenza in mezzo al campo un qualcosa di importante per cui spero che quella possa tornare adesso una certezza dato che credo soltanto oggi rientrare in gruppo perché se Chiesa è rientrato in gruppo Rabiot invece non lo ha ancora fatto però si parlava di Juvedì per cui oggi avremo avremo novità. La certezza ovviamente è Vlaovic quello che è il periodo che sta trascorrendo il dubbio che dicono ovviamente gli insider del mondo Juve è paradossalmente il modulo perché si parla addirittura di un 3-5-1-1 cioè quindi alle spalle di Vlaovic l'idea potrebbe essere quella di metterci il Miretti che va a disturbare sul Cialanoglu un po' come Sule fece l'anno scorso a San Siro partita vinta poi dalla Juve per 1-0 un gol di Kostic con Sule che si francobollò a Brozovic. Questo è un po' il dubbio ballottaggio che sta alleggiando nei pressi della continassa. Così dicono io se chiedi un parere mio personale come preferenza spero che comunque vedremo due attaccanti cioè spero di vedere in campo due attaccanti cioè Illiz e Vlaovic con Chiesa pronto a subentrare gli ultimi 30-35 minuti. Questa è la mia speranza però la gente che ne sa dice e parla di un possibile 3-5-1-1 così dicono. Vediamo. Quello è il ballottaggio al momento. Quindi Miretti. Miretti iniziato per giocare dietro Vlaovic. Sarebbe un'indicazione anche di piuttosto chiara del tipo di tattica forse che possiamo aspettarci di un centrocampo più solido e di un'attenzione particolare. Matteo ti ringrazio non so se ti vuoi sbilanciare più che un pronostico magari la sensazione che tipo di partita e chi parte davanti come può finire. Guarda io pronostici sono abituato a non farne. La mia sensazione è che vincerà l'Inter. Cioè secondo me ci arriva... Poi ovviamente fate tutti gli scongiuri del caso tipo genero azzurri che ci state ascoltando perché capisco e non lo faccio per per gufare ma la mia sensazione è questa e ripeto se l'abbiamo avvertita noi così tanta amarezza dalla giornata scorsa secondo me un po' di amarezza c'è stato anche dentro lo spogliatoio ma proprio per un po' di... c'è la sensazione magari anche di occasione persa capito? Quasi un mezzo rimpianto perché veramente potevi arrivare a un Inter Juve con il coltello dalla parte del manico per intenderci. Invece ci arrivi che di fatto l'Inter ha tutto dalla sua parte e e quindi secondo me l'Inter ci arriva anche con una serenità mentale che gli permetterà quindi di di esprimersi al meglio. Questa qua è un po' la mia la mia sensazione è chiaro che da tifoso poi mi auguro che vada esattamente al contrario di quanto di quanto di quanto appena descritto però insomma questa è un po' la lettura che do nel nel pregare la partita. Ti ringrazio grazie mille allora Matteo Davon ventitré tutti in the box trovate i link in descrizione per seguire tutte le trasmissioni e i contenuti grazie mille Matteo. Grazie a te loro grazie per l'invito e saluto tutti i ragazzi spero è stata una bella chiacchierata per tutti. Vi invito fateci sapere anche nei commenti che cosa ne pensate anche della situazione Juventus abbiamo fatto una panoramica poi adesso entreremo più nel dettaglio anche del mondo Inter con i prossimi contenuti trovate in descrizione tutti i riferimenti vi aspetto nei commenti che poi leggeremo nella diretta delle diciannove e trenta vi ricordo www.passioninter.club se volete entrare a far parte della nostra grande community con grandi interisti letteralmente da tutto il mondo con cui stiamo condividendo l'avvicinamento a questa partita vi lascio poi in descrizione un altro approfondimento da non perdere per chi ci ascolta in podcast mentre per chi ci segue da youtube basta fare clic qui ciao 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 ciao